Giorno 1, smaltimento, chilometraggio di ieri, quasi 130 km Ora smaltisco un po' su giallo, siccome non posso uscire fuori, si smaltisce su giallo, quindi andiamo subito Stiamo per allenarci seriamente, siccome nell'ultima uscita ho faticato molto con la squadra Ho deciso che inizierò ad allenarmi seriamente, se non posso uscire in strada inizierò a fare un po' di rullo Quindi speriamo bene Cercherò di tenere una cadenza sui 90, 90 pedalate al minuto e cercherò di non superare i 160 battiti Sperando di riuscirci, ma andiamo come sto e mi regolo, un massimo 40 minuti Si inizia ad allenare, questa è una volta di tenenza, 122 di quantità Cerco anche un'auto per 40 minuti 10 minuti di passare, ancora lungo La cadenza c'è, il battito è serico, il 100 quadro, è meno così Ogni 15 minuti, ci beviamo un po' d'acqua Quindicinquesimo minuto, si mette a fuoco Si mette a fuoco Sveglia, si mette a fuoco Lenza, termina inizia Per 90 140 battiti Ultimi 10 minuti, 140 di battiti e 90 di impedenza, andate bene, faccio gli ultimi 5 minuti così Allenamento concluso alla grande, se il video è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, se volete consigli iscrivetevi sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti